Bontà e verità non ti abbandonino, legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi, e i Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. La sera, la mattina e sul mezzodì mi lamenterò e gemerò ed egli udrà la mia voce. Poiché tu sei stato una fortezza per il povero, una fortezza per il misero nella distretta, un rifugio contro la tempesta, un'ombra contro l'arsura, giacché il soffio dei tiranni era come una tempesta che batte la muraglia. E Gesù rispose loro, a cagione della vostra poca fede, perché in verità io vi dico, se avrete fede quanto un granel di senapa, potrete dire a questo monte, passa di qui là e passerà, e niente vi sarà impossibile. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Tu non temerai lo spavento notturno, nella saetta che vola di giorno, nella peste che va intorno nelle tenebre, nello sterminio che infierisce in pie mezzodì. In pace io mi coricherò, e in pace dormirò, perché tu solo, o Eterno, mi fai abitare in sicurtà. A colui che si è fermato nei suoi sentimenti, tu conservi la pace, la pace perché in te confida. E non vi conformiate a questo secolo, ma siate trasformati, mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza, quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Dimorate in me, e io dimorerò in voi, come il tralcio non può da seda far frutto, se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Grazie. 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 Grazie.